Eccoci qua come sempre ben ritrovati cari amici su Meteo Giuliaci. Seguiteci sempre, mi raccomando, un saluto da Giuseppe De Vittis. Beh, il freddo sulle estreme regioni meridionali si allontanerà nella giornata di mercoledì verso est, verso i Balcani, si ritirerà verso i Balcani, quindi le temperature torneranno un po' ad aumentare almeno per quanto riguarda le temperature massime al sud. Bel tempo quasi dappertutto, ma se il freddo si allontanerà, si avvicineranno invece delle nuvole, dove tra la Liguria, i settori meridionali del Piemonte, della Lombardia, parte anche sull'Emilia in una seconda fase e soprattutto poi tra la Toscana e l'Alto Lazio. Sulla Liguria non escludiamo qualche isolata goccia di pioggia, ma nulla di significativo. Vedete, sul resto del territorio prevalentemente sereno, sarà una bella giornata, qualche nuvola ci sarà anche sulla Sardegna. Quindi questo è lo scenario previsto per la giornata di mercoledì. Occhio perché comunque al primo mattino, nelle vallate del centro, nelle zone interne e nella pianura padana, le temperature comunque al risveglio saranno sempre piuttosto gelide. Io ho concluso, cari amici, buon proseguimento di settimana. Arrivederci.